Il telaio Pro Stock ti permette di giocare meglio? È possibile aumentare le proprie capacità, le proprie performance, anche solo utilizzando un telaio come questo? Proviamo a scoprirlo insieme. Sì, perché ci sono i telai che puoi comprare al negozio e quelli che non possiamo avere, che sono i telai Pro Stock, i telai giocatori. Davide è una... aspetta, tagliamo... come ti chiamo? Un membro della nostra community. Ciao a tutti ragazzi, qui Michele, con me oggi abbiamo un membro attivissimo della community. Ciao Davide. Ciao Michele. Allora, siamo qui al TC Helmas dove Davide è di casa, mi ha invitato per fare due scambi e fare un playtest, come lo chiamiamo. Gli è capitata tra le mani una racchetta speciale, eccola qua. Che cos'è? È fondamentalmente una Head Radical MP, però una Pro Stock, una TGT 307.2, completamente diversa dalla... Non è quella che possiamo comprare nel negozio. E come ti è capitata tra le mani? Capitata tramite... Sei un ex professionista. Assolutamente, sono un ex professionista ancora ora. Da amici che invece non hanno mai perso la passione, sono anche dei grandi racchettomani, perché per prendere queste racchette bisogna essere dei racchettomani che me l'hanno gentilmente omaggiata per provarla, per provare sensazioni ormai. Cosa ci dobbiamo aspettare da questa racchetta? Ci dobbiamo aspettare una racchetta estremamente impegnativa dal punto di vista tecnico. Quindi diciamo che ne usciamo con le ossa rotte. Ne usciamo male, però almeno proviamo la sensazione di un gioco diverso. Bene, quindi ci aspetto un'oretta interessante, entriamo in campo Davide, vediamo che cosa riusciamo a fare, se ci fa sudare, se ci sta anche il braccio, se ce lo manda a terra. Non lo so, tu l'hai già provata, me ne devi dire. L'ho già provata, quindi ti posso assicurare che dopo mezz'oretta. Va bene. Andiamo. Allora, prime sensazioni, fatto un po' di scambio a metà campo per riscaldare, non senti il peso di 350 e passa a grammi, la palla esce da sola. Vediamo che succede adesso alzando il ritmo. Iniziamo subito menzionando qualche dato. Peso in grammi, nuda 3,31.5, bilanciamento 31.4, inerzia 3,29 con una rigidità a 66 punti. Il profilo della racchetta non è costante, ma 21, 23, 20. Come potete immaginare non è il tipo di racchetta così maneggevole, così semplice da gestire, da muovere, da manovrare. E' un telaio giocatore. L'uscita di palla è molto alta, devi stare attento col controllo, devi girare molto veloce col movimento del colpo, altrimenti ti scappa via. Per questo test abbiamo utilizzato una corda medio rigida, una Head Oak Touch 1,25. Una corda che comunque risponde abbastanza bene con sensibilità al gioco, ha un buon comfort, ha un'ottima spinta. Chiaramente essendo una corda medio rigida c'è un effetto abbastanza notevole da questo punto di vista. Dall'altra parte, non essendo un multifilo, un budello naturale o qualcosa di molto soft, chiaramente non aiuta nel gestire un attrezzo del genere. Ma se volevamo ricreare le sensazioni più simili, più vicine a quelle che dovrebbe percepire un giocatore che utilizza questo telaio, dovevamo andare per questa strada. Perché parliamoci chiaro, questo è un gioco, non è pura realtà. Sarebbe impossibile per giocatori del nostro livello pensare di giocare abitualmente con un telaio a queste specifiche. Probabilmente lo potrebbe fare un giocatore che ha una classifica non inferiore a 2-3, 2-4, perché se anche riuscissi mai a fare il primo set. Come fai a completare una partita al meglio dei 3-7? Ci vuole un braccio incredibile. E se devi giocare in un torneo dove magari le partite sono una conseguente all'altra e ti ritrovi a giocare 3-4 partite, come fai a gestirle una cosa del genere? Non è sicuramente pensabile. Questo è un telaio che fa bene tutto. Gioco da fondo, gioco al volo, nel servizio, nelle volée, negli smash, dappertutto ha capacità di gestione della palla. Ma tutto questo ha un costo e la racchetta non perdona. La racchetta è molto bella. Sembra che non fatichi quando colpisci e se spingi ce n'è. Bisogna girare veloce col braccio. Allora, adesso vediamo come gioca con i colpi rotati da fondo, alzando la palla e la traiettoria il più possibile, mettendoci tanto giro. Inutile nasconderlo. Questa racchetta dà il meglio di sé nel momento in cui tu giochi piatto, lineare o leggermente toppato. Perché? Perché muoverla nell'aria è difficilissimo. Nel momento in cui tu hai un gioco simile al mio, dove comunque fai grande uso di topspin, è complicatissimo rendere la palla penetrante e insidiosa. Ci devi mettere veramente tanta forza. Restando sulle rotazioni invece, il discorso è molto diverso per quanto riguarda lo slice di rovescio che esce, che è una bellezza. Questa racchetta non fa di te un giocatore, non fa di te un professionista. Questa racchetta ti dà la possibilità di capire che cosa utilizza un giocatore professionista. Per farti una risata probabilmente, per farti capire quanto sei lontano a livello di gioco da un professionista. Dall'altra parte, è una racchetta che ci fa capire dove dobbiamo migliorare. Ci fa capire quali sono le nostre lacune, quali sono i margini di miglioramento. Perché ti costringe ad essere sempre perfetto, per esempio, sul timing. C'è il pericolo altrimenti di steccare, no? Come si direbbe in gergo. C'è il pericolo di arrivare tardi e non imprimere la giusta velocità, la giusta potenza al colpo. E quindi rimanere indietro. È una racchetta fondamentalmente esigente. E se questo lo possiamo dire per alcune racchette come la Prestige, che puoi trovare al negozio, su questo telaio è amplificato dieci volte. E lo dico io, ma lo conferma anche Davide, che è stato così gentile da mettermi a disposizione, il suo telaio, di provarlo insieme a lui nei campi del TC Elmas. È una sensazione strana. Giocare con questo telaio è come se mi abbia fatto tornare un po' indietro nel tempo. utilizzare la racchetta che utilizzava mio padre, che ne so, una Wilson Pro Staff Classic, una di quelle racchette mattone, la 200G. Quelle racchette che pesavano tantissimo, ma erano anche effettivamente belle da utilizzare. Ecco, in questo caso è stato un po' lo stesso. Forse c'era un po' meno di sensibilità e di feeling col telaio, perché comunque tutto sommato è un telaio moderno. E questo te lo porti in dote. Dall'altra parte, la gestione dell'attrezzo è molto simile a quel tipo di telaio di 20 o di 30 anni fa. E non è un caso che giocatori di 20 anni fa, come potrebbe essere Federer, o un po' più recenti come Nadal, Djokovic, Andy Murray, utilizzano dei telai più su questa fattispecie, rispetto ai nuovi giocatori emergenti, da Sinner a Musetti, piuttosto che Nakashima, o Jack Draper o Tsitsipas, utilizzino in realtà dei telai Pro Stock, che sono decisamente di peso inferiore, e che quindi riescono anche loro a gestire meglio. Perché il mondo del tennis ormai ruota attorno a questo tipo di approccio, a questo tipo di attrezzo. Allora, Davide sta scaldando la spalla, perché io non me lo posso permettere di servire con questa racchetta, ma ne vogliamo parlare della maglietta all'hosting tennis. Questa è una delle due, che poi verrà addoppiata con il nuovo logo, c'è l'Oimeo. Ti devo fare anche l'autografo, non lo so. Perché per qualche anno io sarò il primo ad avere la maglietta. Esatto. Allora, abbiamo finito la nostra sessione, Davide. Ottima sessione, ottimo telaio. Io ti ringrazio per avermi fatto trovare, è stato veramente bello. Qua c'è un aereo, speriamo si senta tutto. A caldo, cosa possiamo dire? Hai servito, perché io non ce la faccio con la spalla. Cosa ti ha dato? Il servizio è, come presumo anche gli altri colpi, molto legato allo switch boot. Se riesci a centrare la palla in quella zona, diciamo, limitata del centro del reticolato, la palla viaccia. Rende. Quando inizi a decentrarla, che per me è un'abitudine, la palla diventa anche difficilmente controllabile, le stecche sono all'ordine del gioco. Questo penso idioticamente su tutti i colpi. Però possiamo dire una cosa, è una racchetta da professionisti, noi abbiamo altri telaio a disposizione. Infatti, infatti. Però è una racchetta che secondo me, per allenarsi un'ora, un'oretta e mezzo alla settimana, e cercare di migliorare la centratura del corpo, può andare bene. Può essere un termometro, diciamo, del tuo gioco, in un certo senso. Sì, del time, insomma, della capacità di essere sempre precisi sulla palla. Se vi è piaciuto questo video, un bel mi piace. Se l'avete adorato e vi sono piaciute le nostre gesta in campo, iscrivetevi al canale. Grazie ancora a Davide. Grazie a te, Michele, e seguite sempre Lost in World. Ciao. Ciao.